Il sindacato pensionati Cigelle Abruzzo Molise e l'Associazione Culturale e il Sentiero della Libertà, in collaborazione con l'Istituto Patini Liberatore, hanno presentato a Castel di Sangro la terza edizione del progetto dal titolo 1943-1944 lungo la linea Gustav, Resistenza alla guerra per orizzonti di pace, rivolto a studenti e docenti per cimentarsi in una ricerca finalizzata alla conservazione della memoria degli avvenimenti della seconda guerra mondiale, elaborando un prodotto che verrà presentato al pubblico il prossimo maggio 2023. È il lancio della terza edizione del progetto lungo la linea Gustav, un progetto del sindacato pensionati della Cigelle Abruzzo e Molise e dell'Associazione Culturale e Sentiero della Libertà. È la terza edizione ed è rivolto ad allievi delle scuole medie superiori per promuovere la ricerca storica ma per promuovere anche la riflessione degli allievi e delle allieve sul concetto di democrazia, di libertà, di pace e di condivisione tra i popoli. Ricominciamo con lo studio del territorio e della linea Gustav che è una linea che ha visto il nostro territorio, Castel di Sangue e l'Altopiani, molto provati nel 1943. Ripartiamo da quelle giornate per analizzare anche il presente e il presente con una prospettiva di futuro perché ovviamente linee e muri nel mondo e in un particolare momento come questo con la guerra in Ucraina va riproposto alle giovani generazioni perché noi ci stiamo alzando la mattina con il pensiero di essere in un mondo in guerra. Questo progetto, SPCDL, Associazione del Sentiero della Libertà, tiene a coniugare questo argomento cercando di valorizzare come l'esperienza vissuta possa avere una consapevolezza ai giovani di oggi di come si deve combattere per avere la pace, per mantenere la pace. Mai come adesso abbiamo bisogno che i ragazzi siano consapevoli che i momenti di guerra sono momenti terribili di sofferenza e di paura. La resistenza è una scelta di libertà, è la scelta di opporsi a qualsiasi tipo di prevaricazione, è una scelta di responsabilità che non si sa nel momento in cui si compie dove ci potrà portare, ma è assolutamente necessario dare fondamento a un vivere civile che appunto rifiuti qualsiasi forma di negazione della stessa libertà. È la nostra storia, è la decisione che assunsero giovani ragazzi e ragazze molti anni fa e che fece la paradigma poi per la costruzione dell'Italia repubblicana e democratica.